eccoci qua adesso ci troviamo direttamente eccolo guardate e non è arrivato con l'aereo ma il ministro rumeno che tra poco arriverà qua col suo autista eccolo lo vediamo lo vediamo intravediamo la macchina gialla con a bordo eccoli qua eccoli stanno per arrivare proprio per parcheggiarsi ma ci picchia lo vediamo mentre si accinge a fare una manovra abbastanza complicata che non ce la fa signore lei deve andare indietro lei e testa pelata che c'è dietro la eccolo un parcheggio fatto proprio alla grande dove sta andando c'entra un autotreno in questo parcheggio ha messo anche la freccia eccolo arriva pian pianino niente ma una via diretta da gran che sta dietro nemmeno eccolo qua si prova niente da fare lo vedo niente non ci siamo ancora e stiamo per scoprire che in romania la patente la danno con i punti della miralanza o coi punti della formaggino non lo so dopo glielo chiederemo e pensare che qui vicino c'è l'aeroporto magari lo mandavo lì a parcheggiare grande come retromarcia riesce in questo momento niente sì forse forse può darsi che stavolta sia la volta buona è andato ma donna avete sentito anche chi riescono ad avere ancora nemmeno ci sei non ci sei aspetta di là di là vai di là di là vai avanti 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 ancora ricetta nera date eccolo è arrivato quasi a destinazione c'è l'ha fatta ce l'ha fatta miracolo scusatemi ma la patente l'avete presa con i punti della miralanza io domandi chi domanda non ferrore spendi balta spendi balta spendi balta spendi balta